E' successo tutto in pochi secondi. Antonio Scaperrotta, 51 anni, era in fondo ad un fossato impegnato nella realizzazione di opere di drenaggio intorno ad un'abitazione. L'imprenditore, da anni esperto nei lavori di movimento terra, è stato letteralmente travolto da un improvviso cedimento del terreno che non gli ha dato scampo. E' morto sul colpo a causa di un violento trauma cranico e toracico. La tragedia incontrata Stillo ad Ariano Irpino, zona particolarmente impervia di fronte alla piccola chiesa dedicata a San Gerardo. Inutili soccorsi da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grotta Minarda. Per l'uomo che lascia moglie e due figli non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sempre amici, sempre buoni amici, sono grandi lavoratori, movimento terra, scavatori, metri trebbi, lavoravano. E' successo, è stata disgrazione stamattina. Un buon amico, ieri mi sono ammesso, mi sono discorsi per la Ferrari, mi sono diffusi per la Ferrari, e ciò l'è mai bene. Dolore e sgomento nella piccola contrada Stillo e nella vicina località Maddalena, luogo di residenza della famiglia Scaperrotta, persone per bene molto stimate. Mamma mia, che peccato. Brutte cose, veramente. I carabinieri stanno facendo piena luce al fine di ricostruire con esattezza cosa realmente è accaduto, inchiesta coordinata dalla procura di Benevento.